vuoi assaggiare non ti resta che guardare la ricetta buongiorno a tutti amici eccomi qui oggi per una nuova ricetta siciliana faremo i biscotti attorcigliati ideali per essere inzuppati cosa ci serve vediamo 250 grammi di farina 100 grammi di zucchero 50 grammi di strutto un uovo un cucchiaino di ammoniaca per dolci un pizzico di sale un po di scorza di limone e per finire ci servirà 65 ml di latte per prima cosa mettiamo in una ciotola la nostra farina abbiamo detto 250 grammi 100 grammi di zucchero un po di scorza di limone dopodiché aggiungo lo strutto un cucchiaino di ammoniaca per dolci 65 ml di latte per finire aggiungo un uovo adesso sbatto un po' l'uovo con la forchetta dopodiché impasterò con le mani piano piano con le mani adesso cerco di raccogliere tutti gli ingredienti per bene e impastare una volta che abbiamo finito di impastare dobbiamo lasciare riposare in frigo la pasta almeno per un quarto d'ora 20 minuti avvolta in una pellicola trasparente nel frattempo preparate un piano da lavoro infarinato il forno a 180 gradi e una teglia rivestita con carta da forno trascorso il tempo prendete la vostra pasta allungatela un pochettino così dopodiché tagliate dei piccoli pezzetti con un po di farina allungate nuovamente la pasta formando un grissino e attorcigliate in questo modo mettete sulla teglia rivestita con carta da forno fate così con tutta la pasta con un po di latte spennellate i vostri biscotti in questo modo dopodiché infornate a 180 gradi per un quarto d'ora circa i miei biscotti sono cotti un profumino davvero invitante i biscotti sono pronti per essere gustati vicino a una buonissima tazza di tè o di caffè sono buonissimi vi consiglio questa ricetta anche per oggi cari amici come sempre vi invito a condividere questa ricetta a lasciare un bel like se questo video ti è piaciuto e se è la prima volta che passi da qui ti invito ad iscriverti perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi da di tutto e di più è tutto e vi aspetto presto al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti